Ci troviamo da Narconon Alfiere per un'occasione importante. Di fatto la struttura pesarese celebra 30 anni di realtà, 30 anni sul territorio di aiuto e assistenza nella riabilitazione dei tossicodipendenti e di prevenzione all'interno delle scuole contro l'uso di droga e alcol. Oggi abbiamo festeggiato i 30 anni di attività del Narconon Alfiere. Il Narconon Alfiere è una delle comunità presenti in tutto il mondo che fornisce alle persone che abusano di droga e alcol un programma riabilitativo. Incomiabile il lavoro che ha fatto questo Narconon, ha superato ostacoli, barriere e soprattutto anche difficoltà perché ovviamente esistono, ma è stato in grado di sostenersi e portare avanti un'attività decisamente importante soprattutto perché il nostro personale è personale che a loro volta è stato formato dopo che ha svolto il programma Narconon. Quindi sono persone che prima hanno vissuto sulla propria pelle, molti di loro insomma, hanno vissuto sulla propria pelle il problema della droga e dell'alcol e poi alla fine hanno maturato in loro la necessità di aiutare altri come loro stessi sono stati aiutati. Quindi sono le persone più meritevoli, più capaci soprattutto di aiutare altri che hanno stesse difficoltà perché loro stessi l'hanno superata e quindi sono in grado di spronare gli altri e uscirne. Devo dire che ormai nel nostro territorio questa attività, questa struttura Narconon Alfiere c'è da 30 anni. Quest'anno appunto vengono festeggiati e ricordati i 30 anni, un'attività molto importante che ha visto nel corso appunto di questi 30 anni centinaia e centinaia di ragazzi che sono venuti qui per problemi legati alla droga, per problemi legati all'alcol, riuscire a rifarsi una vita e quindi riuscire a uscire da questo vortice. L'attività che loro hanno fatto appunto penso che sia veramente molto importante, gli andava riconosciuta e quindi oggi ho voluto testimoniare con la mia presenza il lavoro fatto negli anni. Ricordo che questa è un'attività che non prende soldi pubblici ma viene finanzata completamente da quelle che sono le famiglie di questi ragazzi che decidono di utilizzare questo sistema per far uscire appunto i loro figli o comunque i loro cari dal problema della droga. Sono arrivato alla Germania, ho fatto il programma poco tempo fa, ma niente, trovo bene, mi mancava questo posto, lo senti che quando entri dentro comunque ti ha cambiato la vita e ti manca questo posto, è come quando ti posso fare un paragone quando non vedi tuo figlio da anni e all'improvviso lo vedi davanti così perché stacchi da tutto nonostante tutte le difficoltà che ci sono fuori che abbiamo creato noi e ti fa stare bene, stacchi completamente, ti ricordi quello che è passato, il buono, il cattivo dove sei rinato, diciamo come una rinascita e niente, questo ti fa questo effetto che ti dimentichi tutte le cose che c'è fuori, stacchi, stai bene, vedi i ragazzi che stanno una bomba, sai come sei passato tu, quello che hai passato, quello che ti ha portato il programma, tante cose. Niente, gioia, gioia. È come andare al matrimonio, se posso fare questo paragone, davvero, non lo pensavo che una persona poteva stare così bene.